Al Comune di Berceto, grazie al lavoro di Maria Luisa Becchetti e di Ernesto Bernini, sono stati assegnati quattro giovani per il servizio civile. Speriamo che i ragazzi del Comune di Berceto facciano richiesta, che va fatta entro il 26 giugno. Ci tengo a precisare che due giovani sono dedicati alla casa di riposo, quindi a un aiuto verso gli anziani, non solo alla casa di riposo ma anche sul territorio. E due giovani invece alla Biblioteca Comunale, le attività culturali che vengono svolte presso Villa Berceto. Il servizio dovrebbe iniziare probabilmente dall'ottobre 2017, sono circa 26 ore settimanali per 5 giorni alla settimana, con un compenso tutto regolare di 433,80 euro. È una piccola entrata che potrebbe servire in modo particolare a degli studenti universitari. Abbiamo già avuto questa esperienza due anni fa, l'anno scorso purtroppo non abbiamo trovato nessuno che si iscrivesse, mi ha meravigliato e mi ha anche addolorato e quindi lancio un appello. I ragazzi e le ragazze di Berceto avrei piacere che facessero la richiesta che è da fare presso il comune entro il 26 giugno. Sono lavoro per un anno, 26 ore settimanali per 5 giorni alla settimana e sono 433 euro al mese che venne remunerato. Servizi, due rivolte agli anziani, non solo alla casa di riposo ma anche sul territorio e due rivolti alla cultura e alla biblioteca e alle attività culturali di Villa Berceto.